Il tumore della mammella è caratterizzato da varie sottospecie biomolecolari. Nella fattispecie il tumore R2 positivo è caratterizzato da una mutazione nell'ambito della cellula tumorale del fattore EGFR che rende appunto la positività R2. Nell'ambito della cura di questo tipo di patologia esistono attualmente un numero abbastanza importante di farmaci, tuttavia esistono una quantità di pazienti che hanno probabilmente delle mutazioni che rendono difficile una risposta buona terapeutica. Nell'ambito di questo il nostro progetto si è occupato dei pazienti che hanno una mutazione PI3K che determina una maggiore insensibilità ai farmaci anti-R2. Questo protocollo è volto alla valutazione dei pazienti con mutazioni PI3K che vengono trattati sia con anticorpo monoclonale Trastuzumab in più questo farmaco nuovo Alpelisib che va a puntare proprio sulla mutazione PI3K cercando di sorpassare l'insensibilità. Questo è un progetto innovativo come tutti i progetti di ricerca. La ricerca ci permette al giorno d'oggi una maggiore concentrazione e una maggiore ricerca nell'ambito di pazienti che hanno le mutazioni e un maggior cura e un maggior chance di guarigione, di possibilità di cura per i nostri pazienti. La ricerca è importante grazie a chi ci permette di avere questi mezzi importanti di innovazione e di cura, tra questi appunto Roche che ringraziamo per metterci a disposizione questi progetti, per metterci a disposizione sempre questa grande ricerca su nuovi farmaci che innovano la cura dei nostri pazienti e grazie al lavoro delle data manager che sono di importanza fondamentale per un clinico. Grazie a tutti!